Ok raga, un altro regalo dei server privati, così abbiamo le prove che non scambiamo E inviamo il millesimo regalo ragazzi, c'è la playlist, quindi andate, cercate la playlist ragazzi Artiglio nero, giusto? Sì, sì Ok C'è la playlist e nella playlist trovate tutti quanti i regali, così vedete, insomma E' buona, un altro regalo in più Ti è arrivato? Ancora no Vabbè, sì, la dovrai riavviare, mi sa Eh, secondo me devo riavviare, sì Va buona, dai E niente ragazzi, comunque nella playlist trovate tutti i regali ragazzi, insomma Che così avete le prove che non scambiamo nei server privati, che molta gente lo fa